Salve, sono Daniela Sansone e il mio viaggio da Roma a Toronto risale a circa 20 anni fa e ha segnato per me l'inizio di una nuova straordinaria avventura in Canada. Come reporter e conduttrice di Omni News Italiano, il mio obiettivo è quello di dare voce alla comunità italo-canadese così variegata e rappresentarne la ricchezza culturale e umana. Auguro a tutti un felice Canada Day.